ciao a tutte ben trovate sul canale oggi vediamo insieme la recensione di questo prodotto ossia l'aspiratore per le unghie della beauty iniziamo subito col dire che ha una potenza di 40 watt quindi abbastanza potente come misure 26 per 25 centimetri quindi se apparentemente sembra quadrato in realtà è leggermente rettangolare troviamo sul lato destro il pulsante on off che è isolato quindi per evitare che vada a contatto con acqua e polveri troviamo un filtro epa già in dotazione che non va assolutamente lavato ma va soltanto diciamo spolverato e sostituito poi dopo 3-4 mesi di utilizzo perché ovviamente finisce la sua efficacia ma vediamo da vicino il test quindi come funziona quanto aspira eccetera eccetera il test come vedrete è abbastanza veloce perché mi trovavo in negozio non potevo fare troppe operazioni ma vediamo subito appunto su di me come si comporta quindi quanto è aspirante ho utilizzato una punta in tungsteno a forma di ogiva che quindi fa una polvere abbastanza grossa e come potete vedere ha aspirato tutto alla perfezione mi sono appunto limitata a fare soltanto un'unghia ma già da questa potete vedere che di polvere svolazzante assolutamente non ce n'è ce n'è depositata giusto un po sul mio dito e leggermente sulla griglia che ovviamente non aspira però al di là di quello insomma il risultato è assolutamente soddisfacente in confronto agli altri aspiratori con il sacchetto questo non ha nulla a che vedere ha una forza aspirante veramente più forte più potente e appunto non avendo un sacchetto che si gonfia sotto l'apparecchio è anche molto più pratico e anche più compatto quindi mi sento assolutamente di consigliarlo e andate proprio ad occhi chiusi perché ne vale veramente la pena spero che questa recensione vi sia stata utile ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao